Musica Vediamo insieme le notizie in primo piano Arrestato dalla polizia il 18enne riminese è sospettato di aver accoltellato un giovane moldavo durante una festa a Pesaro Vince 170 mila euro ai giochi online ma percepisce il reddito di cittadinanza 50enne smascherato dalle fiamme gialle di Pesaro Si mantiene alto il numero di positivi al covid nelle Marche con oltre 60 contagi in 24 ore Intanto fanno discutere le dichiarazioni di Acquaroli sull'app Immuni all'attacco Sindaco Ricci e l'ex rivale Maurizio Mangialatti Basta con la didattica a distanza l'appello degli studenti di Quinta che hanno protestato in modo pacifico seduti a terra di fronte a Marconi Assembramenti sui bus continuano le segnalazioni di genitori e studenti Un autista smentisce e il direttore di Adribus assicura ce la mettiamo tutta per garantire la sicurezza dei passeggeri Zaini troppo pesanti per i bambini delle elementari, le lamentele dei genitori che chiedono soluzioni alternative per evitare problemi alla salute dei figli Fanno fatica, lei stamattina è caduta con lo zaino, non riusciva a rialzarsi, tanto pesante Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai titoli Lui è stato arrestato, il diciottenne riminese sospettato di aver accoltellato un giovane moldavo di 21 anni durante una festa privata organizzata a Pesaro Sentiamo Era stato denunciato a piedi libero all'autorità giudiziaria per lesioni aggravate Ma vissi gli indizi, il giudice per indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per presunta reiterazione del reato È stato così arrestato il diciottenne riminese sospettato di aver estratto il coltello durante una festa organizzata a Pesaro nella notte tra sabato e domenica scorsi E di aver colpito alla schiena il festeggiato, un giovane moldavo poi trasportato in ospedale La dettagliata ricostruzione degli avvenimenti effettuata dagli investigatori, supportata dalla raccolta di indizi, sopralluoghi e testimonianze dei giovani presenti Ha permesso al pubblico ministero di richiedere e ottenere dal GIP la misura della custodia cautelare E di conseguenza di portare in carcere colui che era stato individuato come l'autore del gesto L'attività della volante sul posto e quella della squadra mobile iniziata poco dopo è proseguita per tutta la domenica Già alla sera era stato individuato un gruppo di soggetti di origini napoletane formato da treventenni provenienti da Rimini Grazie alla tempestività degli accertamenti si è giunti a identificare sia uno di loro sia l'auto utilizzata per raggiungere Pesaro e poi per la fuga Da quest'ultimo dato gli agenti sono risaliti anche agli altri due componenti del terzetto La questura sottolinea che i protagonisti della festa erano ragazzi di vent'anni che incuranti anche delle norme anti-covid E di quelle amministrative sulla sicurezza dei luoghi hanno creato un'occasione di incontro proseguita e terminata bruscamente con i fatti già noti La cronaca ormai giornaliera di risse, litigi, accoltelamenti, spedizioni punitive tra giovani e anche giovanissimi Dovrebbe stimolare un'approfondita riflessione su questa delicata fascia di età Che spesso lasciata a se stessa e senza punti di riferimento significativi Non sempre risulta in grado di ben orientare il suo stile di vita In tale contesto, prosegue la questura in una nota, l'uso smodato di superalcolici e droghe Finalizzato allo sballo e al divertimento senza freni Facilita gli scontri fisici ai quali non di rado conseguono lesioni anche gravi se non la morte E la polizia è arrestato anche un 19enne per spaccio di droga Il giovane, fermato ieri nel parco antistante alla Casa del Popolo Aveva con sé 44 dosi di ascisce per un peso complessivo di 25 grammi Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto condannando il ragazzo a 10 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa Ma essendo finito in manette anche 20 giorni fa, sempre per detenzione ai fini di spaccio Questa volta il giudice non ha applicato la sospensione della pena In attesa della irrevocabilità dell'ultima sentenza ha disposto per l'imputato l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria La guardia di finanza di Pesaro invece ha denunciato un cinquantenne di Vallefoglia Che percepiva senza averne diritto il reddito di cittadinanza L'uomo aveva omesso anche di dichiarare le sue vincite online di oltre 170.000 euro Tutti particolari nel servizio di Filippo Pucci Percepiva il reddito di cittadinanza ma non ne aveva il diritto Le fiamme gialle della compagnia di Pesaro hanno identificato un cinquantenne residente nel territorio di Vallefoglia Che per due anni ha percepito indebitamente l'aiuto economico destinato alle persone in difficoltà senza un lavoro I militari nelle indagini hanno scoperto che l'uomo aveva una situazione patrimoniale al di sopra dei limiti previsti dalla legge L'esito del controllo ha messo in luce una situazione economica diversa da quella documentata Visto che il cinquantenne ha deliberatamente omesso di riportare nella dichiarazione sostitutiva unica Il calcolo dell'esee del 2019 e del 2020 le vincite avute con i giochi online per un ammontare di 60.663 euro e 111.136 euro Questa mancanza ha consentito così all'uomo di percepire nel 2019 e mantenere nel 2020 il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di 12.708 euro Grazie al controllo degli uomini in divisa il cinquantenne è stato segnalato sia alla procura della Repubblica di Pesaro Per aver percepito soldi a danno dello Stato che all'Inps per il blocco dell'erogazione e recupero dell'indebito incassato Questa attività rientra tra le funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e mira a controllare il corretto uso delle risorse pubbliche assicurando che l'accesso alle egevolazioni o esenzioni avvengano a favore di quelle persone che ne hanno veramente diritto e bisogno E si mantiene alto il numero dei positivi al Covid-19 nelle Marche Dopo gli 84 casi registrati ieri, nelle ultime 24 ore il Servizio Salute della Regione rende noti altri 64 contagi su oltre 1100 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi Le zone più colpite sono quelle del sud I positivi sono 24 in provincia di Fermo, 20 in quella di Ascoli Piceno, 11 nel Maceratese, 6 in provincia di Ancona e 3 in quella di Pesaro Urbino Questi casi comprendono 16 soggetti sintomatici attrettanti in ambito domestico oltre a rientri dall'estero, Romania, Albania, Svizzera e altri riscontrati in ambito scolastico e lavorativo e nei luoghi della Movida I ricoveri salgono da 36 a 39 mentre i pazienti in terapia intensiva rimangono 5 E adesso torniamo a parlare dell'app Immuni che continua a far discutere soprattutto i politici, sentiamo L'app Immuni che in Italia serve a tracciare i contagi da coronavirus continua a far parlare di sé Non è obbligatoria ma su base volontaria e quindi è l'utente che decide se scaricarlo oppure no Ieri abbiamo sentito il parere dei fanesi, molti dei quali hanno dichiarato di non averla scaricata Oggi invece abbiamo contattato alcuni politici della provincia di Pesaro Urbino e rappresentanti di associazioni locali come il sindaco di Fano Massimo Seri che ha raccontato di averla sul telefonino Bisogna essere collaborativi, ha detto il primo cittadino L'app non è risolutiva ma è utile Se ogni volta che si fa qualcosa stiamo a contestarla non andremo mai avanti, di certo male non fa Ad averla scaricata anche il consigliere regionale della Lega Mirko Carloni e la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli entrambi contagiati dal covid all'inizio dell'emergenza sanitaria Invece nonostante la campagna di sensibilizzazione messa in campo dal governo e dall'Asur Marche Il neo governatore della regione Francesco Acquaroli a Rai News 24 ha rivelato di non averla scaricata e di non avere l'intenzione di farlo Il presidente ha affermato che è logico aspettarsi che qualcuno non la scaricherà mai come ad esempio un ottantenne che non ha neanche il cellulare In sostanza non serve se non ce l'hanno tutti Una dura replica è arrivata questa mattina dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci che in un posto sul profilo Facebook ha invitato Acquaroli a correggere la comunicazione sollecitando i concittadini a scaricare l'app come tutte le autorità sanitarie stanno chiedendo Abbiamo bisogno di grande collaborazione da parte di tutti ha scritto Ricci e i rappresentanti istituzionali devono dare l'esempio per primi Dello stesso parere Maurizio Mangialardi che era candidato alla guida della regione Acquaroli con la sua incaute e ingiustificata esternazione ha detto il consigliere PD non solo ha creato un cortocircuito istituzionale con le autorità sanitarie del paese ma di fatto ha depotenziato nelle marche uno strumento utile a contenere il contagio Evidentemente ha proseguito Mangialardi la tragedia vissuta nella scorsa primavera non è stata di lezione Anche per Andrea Biancani mister preferenze alle elezioni regionali e consigliere d'opposizione Immuni è uno strumento importante e chi ricopre un ruolo pubblico dovrebbe dare il buon esempio promuovere e incentivare l'applicazione affinché tutti ce l'abbiano perché solo in questo modo si potranno individuare più contatti ed eventuali contagi D'accordo con Biancani anche la collega Micaela Vitri la giornalista afanese ci ha raccontato di conoscere tre persone alle quali l'app ha inviato la notifica che segnalava un contatto stretto con persone positive al virus tutti e tre si sono messi in isolamento e uno di loro si è sottoposto a tampone una testimonianza riprova dell'efficacia dello strumento ha detto la Vitri che ha fatto notare anche la semplicità di Immuni da quando si scarica con due semplici passaggi al suo utilizzo hanno anche cambiato versione rispetto a mesi fa ci ha fatto notare è stata alleggerita e migliorata scaricata anche da Moreno Bordoni segretario provinciale della CNA è un gesto importante ha dichiarato che aiuta a concorrere alla sua efficacia ho fatto la mia parte, ho messo il mio mattoncino ha proseguito Bordoni così come mia moglie e quasi tutti i colleghi dell'ufficio senza dare lezioni a nessuno anche io ho contribuito a fare del bene a me stesso e agli altri Abbiamo sempre vigilato e lo faremo anche ora affinché gli accertamenti condotti dal concessionario Andreani Tributi avvengano nel modo più corretto lo scrivono in una nota al sindaco di Fano Massimo Sere e l'assessore Sara Cucchiarini intervenuti oggi sulle maxibullette dell'Atari arrivate da alcuni industriali della città garantiamo la rettifica di eventuali criticità laddove ce ne fossero hanno precisato nella nota ricordando che per martedì prossimo l'amministrazione comunale ha convocato tutte le associazioni di categoria per ogni ulteriore confronto sul tema E adesso ci spostiamo a Pesaro dove questa mattina gli studenti che frequentano le classi quinte al liceo scientifico Marconi hanno protestato in modo pacifico per chiedere al preside di eliminare le lezioni online i ragazzi dunque preferiscono rimanere a scuola con la didattica in presenza e hanno raccolto oltre 270 firme Angelica Panzieri Sicuramente chi è andato a parlarci ha ricevuto una risposta però tornare a fare lezioni online abbandonando la didattica digitale integrata è quanto chiedono gli studenti del liceo scientifico Marconi che questa mattina si sono riuniti al campus per far sentire la loro voce hanno raccolto 273 firme per chiedere al preside di prendere in considerazione la loro proposta basta lezioni online si torni tutti in aula la didattica mista per gli studenti delle classi quinte del liceo scientifico Marconi di Pesaro è diventata penalizzante anche a fronte dell'esame di stato che quest'anno dovranno affrontare da qui il desiderio di riunirsi nel pieno rispetto delle norme anti-covid in una manifestazione pacifica questa mattina al campus i liceali si sono seduti a terra tutti distanziati l'uno dall'altro e muniti di mascherina uno striscione per ribadire che un'alternativa esiste le 15 quinte del liceo hanno chiesto al preside Riccardo Rossini di poter ragionare sull'utilizzo di altre aule più grandi come quelle dei laboratori dove poter tenere le lezioni in presenza non sempre infatti la didattica online funziona spesso salta la connessione e gli studenti così non ci stanno abbiamo ideato un piano con 15 classi chiamiamole speciali particolari più grandi che possono accogliere più studenti che sono presenti nella scuola e chiediamo essenzialmente al preside di andarle a modificare per appunto poter ospitare tutti gli studenti comunque mantenendo le norme il dirigente scolastico ha preso però le distanze dalla proposta degli studenti è comprensibile la loro protesta in parte sono con loro l'esigenza di fare scuola in presenza è anche la mia esigenza però il problema è sotto gli occhi di tutti c'è un aumento del contagio non mi sembra che sia opportuno in questo momento abbassare la guardia noi abbiamo dentro le nostre classi una distanza sociale di oltre due metri ci hanno consentito ad esempio di non propagare il caso covid che abbiamo avuto nel senso noi abbiamo avuto un ragazzo di prima positivo che è stato tre giorni in classe con un gruppo ristretto e non ha contagiato tutti gli altri perché tutti gli altri al tampone sono risultati negativi e ci sono anche altri problemi che riguardano il mondo della scuola molti nostri telespettatori continuano a segnalarci assembramenti di studenti e altri passeggeri sugli autobus allora cerchiamo di fare chiarezza nel prossimo servizio di Letizia Marchionni che ha raccolto anche la replica del direttore di Adribus Massimo Benedetti è passato quasi un mese dall'inizio delle scuole ma ancora i problemi legati alla ripresa in convivenza con il virus sembrano più che attuali lo testimoniano le numerose segnalazioni che riguardano ancora una volta la questione autobus sovraffollamento mancato utilizzo della mascherina e superamento dell'80% della capienza imposto dalle normative questa è l'opinione che gli studenti di passeggeri hanno dei mezzi pubblici c'è sempre la gente in piedi in mezzo e infatti non c'è il distanziamento che ci avevano garantito quando abbiamo pagato l'abbonamento esattamente secondo noi non stanno rispettando l'80% di capienza di cui parlavano c'è molta gente anche in piedi e molta confusione anche proprio negli autobus con le linee e tutto quanto per esempio noi dovremmo prendere la fossombrone tavernelle quando invece c'è gente che scende a calcinelli e non c'entra niente con noi e questo crea logicamente assembramenti la situazione secondo me è disastrosa c'è nel senso che ci sono comunque degli assembramenti di ragazzi davanti all'entrata dell'iscuola bus e magari alcuni ragazzi non tengono neanche la mascherina correttamente quindi secondo me non è molto positiva come situazione dal punto di vista degli autisti però la situazione risulta ben diversa sappiamo che ogni tipologia di autobus che portiamo sappiamo quante persone di capienza c'ha quindi noi portati quelli saliti quelli lì contati basta boom chiudiamo ma quindi gli autobus sono realmente così affollati come dicono le segnalazioni ma diciamo come dicono tastierine facili come le chiamo io no dai secondo me no io dico sempre cioè questi tastierini facili io li chiamo tastierini facili perché poi vanno subito a no a mettere varie varie poste se la mattina si alzano con noi alle 6 6 e mezza quando partiamo li invitiamo a venire sull'autobus e vedono insieme a noi no proprio non guardare l'attimo discesa o salita davanti a uno scuolo davanti a una capolinea così perché è normale che c'è comunque no il gruppo dei ragazzi che fa fatica a tenere i ragazzi ma una volta che partiamo l'autobus porte chiuse e partiamo vediamo dentro come siamo impostati oggi è intervenuto Massimo Benedetti per far luce sulla questione e ribadire che Adriabus ce la sta mettendo tutta per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri gli autobus sembrano affollati magari lo sono ma sono totalmente rispettosi delle norme rispetto a quanto previsto dalla carta di circolazione siamo non solo sotto ma in alcuni casi anche di un 10% anche un 15% abbiamo anche delle segnalazioni però sul fatto che alcuni ragazzi non tengono la mascherina allora quando salgono il conducente verifica che ce l'ha poi quando si sale a bordo spesso e volentieri i ragazzi hanno la tentazione di levarla ecco noi adesso metteremo fuori fra entro oggi e domani anche un ordine di servizio per i conducenti che se i ragazzi non hanno tutte le mascherine correttamente indossate possono fermare l'autobus e chiamare le forze dell'ordine e poi corre il pericolo di essere denunciati per interruzione di pubblico servizio quindi è una cosa che teniamo a precisare e a causa delle norme anticontagio i bambini che frequentano l'elementare non possono più lasciare i libri a scuola e sono costretti a trasportare zaini addirittura che pesano fino a 9 chili dopo alcune segnalazioni oggi abbiamo chiesto l'opinione di alcuni genitori Alcune volte metto pochi libri tre o alcune volte dieci Ma quando sono dieci la tua schiena è messa ad una prova Sì L'anno scorso sono caduta dalle scale perché pesava troppo lo zaino Dai 5 ai 7 chili fino ad arrivare nei giorni con più materie ad addirittura 9 Questo è il cosiddetto peso della cultura che i bambini fanesi delle elementari sono costretti a portare sulle spalle ogni giorno dopo che le disposizioni anti-covid hanno imposto il divieto di lasciare libri ed altro materiale scolastico considerati possibile fonte di contagio nei sottobanchi e nelle armadi delle scuole per permettere la sanificazione dei locali e della struttura Un peso eccessivo per i bambini che secondo i genitori può alla lunga nuocere alla salute dei piccoli Lo zaino è pesante è molto pesante specialmente quando fanno anche il rientro che devono accumulare anche più libri eccetera Secondo me sono troppo pesanti gli zaini dei bambini oltretutto sono costretta a portarlo io per andare a scuola e tornare sono minimo 6-7 chili l'anno scorso mi è venuto il mal di schiena per portarlo secondo me sì anche perché poi facendo le scale così ripide c'è il rischio che cadano anche all'indietro qualche volta è successo che abbiano perso l'equilibrio quindi secondo me ci si dovrebbe organizzare in modo diverso penso che gli zaini pesino troppo e che sia una autentica cavolata il non potere lasciare qualcosa in classe perché i bambini non riescono a portare questo peso ogni volta un genitore deve accompagnarlo fino alla porta della scuola invece i bambini dovrebbero prendere l'autonomia e andare da soli quindi in sostanza è meglio lasciare libri a scuola perché penso che il covid non vada a caccia di libri o a caccia di polmoni effettivamente gli zaini si sono appesantiti quest'anno se è una misura che effettivamente serve ad originare il contagio è un piccolo sacrificio che facciamo fare ai nostri figli certo bisognerebbe trovare una soluzione alternativa non so come con altri tipi di materiali non so aiutandoci magari con il digitale con i libri elettronici speriamo che la scuola possa trovare qualche soluzione anche perché oggi ne porto uno e altri giorni ne porto due l'altro è a casa quindi lei stamattina è caduta con lo zaino non riusciva a rialzarsi tanto pesare però ci si adatta a tutto l'importante è andare a scuola la scuola comunque cerca di venire incontro ai bambini per risolvere il problema nella giornata di domani infatti avremo la risposta di Monica Dalmonte dirigente dell'istituto comprensivo Matteo Nuti di Fano sarà inoltre inviata alle famiglie anche una circolare a riguardo è una squadra dei vigili del fuoco di Fano intervenuta all'ex campo di aviezione per un incendio divampato nella tarda mattinata intorno alle 12.15 ad andare a fuoco un ammasso di rove e detriti vari le operazioni di spegnimento sono durate circa mezz'ora ma non è chiaro se l'origine del rogo sia accidentale o dolosa sul posto anche la polizia locale di Fano e adesso vi parliamo del nobile gesto del mobile progetto del club Rotaract Valle del Metauro che sta raccogliendo i computer inutilizzati per farli sistemare e poi verranno donati a chi ne ha bisogno quando i computer dismessi e inutilizzati possono diventare un valore per la collettività è il progetto al quale sta lavorando il club Rotaract Valle del Metauro che ha deciso di aiutare chi non possiede un pc o chi comunque ne ha bisogno ma non ha la possibilità di acquistarlo l'idea nata dai ragazzi è quella di raccogliere i dispositivi rotti o lasciati in cantina un'azienda si occuperà di ripararli e poi il club che sosterrà interamente le spese compreso il trasporto contatterà i nuovi destinatari che li riceveranno il regalo è un progetto del service coniuge del governatore del Rotary del distretto 2090 è un service a cui noi club Valle del Metauro abbiamo aderito ed è un service che si propone di raccogliere computer usati obsoleti ricondizionarli e donarli a chi più ne ha bisogno siamo un club che diciamo copre la vallata del Metauro e quindi i comuni di riferimento sono i comuni di Fano di Urbino e di Cagli nei prossimi mesi poi ci occuperemo di aiutare famiglie anziani come ad esempio anche Caritas insomma chi ne avrà bisogno e noi cercheremo di accontentare tutti in base alla disponibilità dei nostri pc chi avesse un pc da donarvi come deve fare quali sono i riferimenti chiaramente esatto noi approfittiamo di questa opportunità infatti vi ringraziamo per rivolgere un invito a privati e aziende che hanno disponibilità di donare questi computer e chiaramente ci potete contattare nella nostra pagina Facebook o pagina Instagram Rotaract Valle del Metauro lunedì sera subito dopo il telegiornale andremo in diretta per la seconda puntata della nuova stagione di Primo Cittadino l'ospite sarà il sindaco di Fano Massimo Serie qua vedete tutti i contatti per intervenire in diretta dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato al cortometraggio dal titolo La Regina dei Social grazie per averci seguito buona serata a tutti Grazie a tutti